Buongiorno a tutti, sono Luciano Bortolan e sono uno dei soci di questa società agricola Bortolan che ha una nascita ed è il 30 maggio 1984, quando i nostri genitori hanno venduto l'azienda che avevano nei Colli Uganei per aiutarci a comprare questa in provincia di Bologna con tanti sacrifici e debiti. Coltiviamo cereali, leguminose, barbabietole, soia e prodotti ortofrutticoli, su circa 200 ettari. Naturalmente di anni ne sono passati ed oggi abbiamo il scelto generazionale con i nostri figli e a questi dobbiamo cercare di dare come minimo la stessa fiducia che i nostri genitori hanno riposto in noi. Si sente molto spesso parlare di innovazione. Io credo che l'innovazione sia la marcia in più per poter competere nel nostro mondo. Qui la svolta c'è stata anche grazie a Copro B, che è la nostra cooperativa che trasforma le nostre barbabietole attraverso il Club della Bietola, fatto di soci e volontari. Il tutto è partito resettando la cultura, cercando tutti i know-how, cioè le tecnologie a disposizione e applicarle. Il nostro cavallo di battaglia è la salute della pianta. Si inizia con le sonde, prelevando la soluzione circolante, che in pratica è il mangiare della pianta e si va avanti. Oggi siamo arrivati attraverso l'analisi foliare all'equivalente delle nostre analisi del sangue, dove per ogni elemento ci sono dei valori di riferimento. Di strada ne abbiamo fatta molta e miglioramenti pure si vedono. D'altronde il nostro motto è diminuire i consumi di fitofarmaci, di nutrimenti e acqua per chilogrammo prodotto, cioè diventare più ecologici e sostenibili. Per fare questo ci siamo avalsi anche di molta attrezzatura innovativa. Siamo stati una delle prime aziende ad usare il GPS, la guida autonoma, e oggi il Ranger che vedete qui è il top dell'irrigazione. Questo ha una linearità di distribuzione dell'acqua pressoché perfetta, con consumi molto inferiori rispetto all'irrigazione tradizionale. Io credo inoltre che per un'azienda agricola di dimensioni medie come la nostra sia fondamentale entrare nel mondo cooperativo, perché questo riesce a valorizzare maggiormente i nostri prodotti, ad acquistare quello di cui abbiamo bisogno e anche dal punto di vista bancario per poter fare gli investimenti necessari al momento giusto. La cooperazione è vita ed è futuro. Tutti noi ci crediamo. Come Milbanca ringraziamo la famiglia Bortolan, tutta la famiglia. dimostra che la cooperazione vicina all'innovazione può essere sicuramente il futuro e noi siamo contenti di essere qua a raccontarlo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.